Benvenuti da Targa! Dai Andrea! Chi da può formare Andrea? Io vorrei battere anche a te adesso. Chi da può formare Andrea? 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 Grazie a tutti Grazie 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 Grazie. Grazie. Vado, vado a te. Come fai a notizia? Da mezza sega, eh. Ma che non mezza sega! Ma cosa, eh? Mi è andato addosso, cosa dici? Non mezza sega! Non mezza sega! Ah, del casto, eh, adesso! Non mezza di merda! Non mezza sega! Non mezza sega! Non mezza sega! Non mezza sega! Non mezza! Non mezza! Non mezza sega! Grazie a tutti. Grazie a tutti.